Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. Benvenuti in un nuovo video. Un acceso confronto tra Vittorio Feltri e Laura Boldrini ha scosso lo studio, con il tema caldo della giornata che ruota attorno al caso Ilaria Salis. L'animato dibattito ha portato alla ribalta questioni sulla giustizia, la civiltà e la condotta dei politici italiani. Scopriamo i dettagli di questo acceso scontro e le opinioni contrastanti dei nostri ospiti. Ilaria Salis è al centro del dibattito odierno, con Vittorio Feltri che apre le danze sollevando dubbi sulla civiltà del sistema giudiziario italiano. Egli critica l'uso delle gabbie per gli imputati, citando l'episodio recente di Salis trascinata in aula nel Tribunale di Budapest. Il fondatore di Libero pone quindi una provocatoria domanda, è questo il segno di una giustizia degna di un paese civile? L'episodio ha scatenato una serie di riflessioni sulla natura della giustizia e sul trattamento degli imputati, alimentando il dibattito pubblico sulla civiltà delle pratiche giudiziarie italiane. La presenza di Salis in aula, con le manette e i ceppi ai piedi, ha sollevato interrogativi sulla correttezza e l'umanità del sistema legale, suscitando indignazione e dibattito su scala nazionale e internazionale. La sua condizione ha messo in luce il divario tra i principi fondamentali della giustizia e la realtà delle pratiche giudiziarie, portando alla ribalta una discussione urgente sulla necessità di riforme e cambiamenti nel sistema giudiziario italiano. Laura Boldrini, ex presidente della Camera, tenta di intervenire nel dibattito, ma viene bruscamente zittita da Vittorio Feltri. Boldrini cerca di sollevare obiezioni riguardo all'uso delle gabbie, ma viene interrotta da un infervorato Feltri che la accusa di non capire la situazione. La discussione si infiamma ulteriormente, con Boldrini che si ribella ai toni aggressivi dell'interlocutore. La tensione tra i due ospiti cresce, con scambi di battute taglienti e accese controversie sulle pratiche giudiziarie. Feltri, determinato a far valere il suo punto di vista, continua a esporre le sue argomentazioni con vehemenza, mentre Boldrini difende con fermezza le sue posizioni, cercando di mantenere la calma nonostante la provocazione. L'intera situazione diventa un confronto acceso tra due personalità di spicco, riflettendo le divergenze profonde nel panorama politico e sociale. Nonostante le interruzioni di Feltri, Laura Boldrini cerca tenacemente di portare avanti il proprio punto di vista, sostenendo con fermezza che l'uso delle catene sugli imputati non sia mai stato considerato un'espressione di giustizia. Tuttavia, Feltri ribatte prontamente citando un precedente storico significativo, il caso di Enzo Tortora, celebre conduttore televisivo italiano, trascinato in uno studio televisivo con le manette ai polsi. Questo esempio storico solleva interrogativi sulla definizione di «eleganza» nel trattamento degli imputati durante le udienze giudiziarie. La discussione si intensifica ulteriormente con Boldrini che cerca disperatamente di difendere la sua posizione, argomentando che ogni caso deve essere valutato individualmente e che il trattamento degli imputati dovrebbe rispettare i principi fondamentali di dignità e umanità. Tuttavia, Feltri, deciso a far valere il suo punto di vista, non concede spazio alle argomentazioni della Boldrini, continuando a sostenere con vehemenza la sua opinione sulla questione. La tensione tra i due ospiti sale, creando una spaccatura evidente nel dibattito e riflettendo le divergenze profonde nel panorama politico e sociale del paese. Vittorio Feltri critica aspramente la scelta di Ilaria Salis di essersi recata in Ungheria, mettendo in discussione la sua decisione e sollevando interrogativi sulla sua condotta. Egli esprime preoccupazione e disapprovazione riguardo alla situazione, sottolineando gli eventuali rischi e pericoli che possono derivare da tale scelta. La sua critica riflette una posizione decisa e una forte opinione sulla questione, evidenziando le sue preoccupazioni per il benessere e la sicurezza di Ilaria Salis. L'accalorato confronto tra Vittorio Feltri e Laura Boldrini rivela tensioni profonde nel panorama politico italiano su temi di giustizia e civiltà. Feltri, con fermezza, difende la sua visione riguardo all'uso delle gabbie e delle catene sugli imputati, sottolineando la sua posizione decisa. Dall'altro lato, Boldrini cerca di contrastare i suoi argomenti, ma viene continuamente interrotta dall'inflessibile Feltri. La discussione, infiammata dalle opinioni contrastanti dei due, potrebbe influenzare le opinioni del pubblico e alimentare ulteriori dibattiti politici sull'argomento. È importante monitorare gli sviluppi futuri per comprendere appieno l'impatto di questo confronto sulla società e sulla politica italiana. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda e su altre questioni di rilevanza nazionale.